Allora vi dicevo Giulia viene da lontano, viene da Messina e che viene dalle lotte di quel territorio tra cui quella recentissima che speriamo si riesca a vince perché poi le lotte vanno vinte perché se si perde sempre come dici ci si scoraggia che è quella del no MUOS che avrete chiaramente sentito. Buonasera a tutti, io in realtà sono qui più che come comitato no MUOS e ovviamente il teatro Pinelli ne fa parte ma soprattutto per parlare dell'esperienza appunto che è partita a Messina con l'occupazione del teatro in fiera lo scorso dicembre a cui poi è seguito lo sgombero, tutta una serie di attività che ovviamente hanno aperto un discorso anche sul diritto alla città. Parliamo di una città che per certi versi è molto simile all'Aquila nel senso che è una città in cui in qualche modo si avverte un terremoto permanente. Dal terremoto del 1908 è una città in cui ancora oggi ci sono delle baracche a cui poi ovviamente in qualche modo oltre il terremoto, oltre le guerre si è instaurato anche una sorta di cultura delle baracche per cui c'è un passaggio, una sorta di risposta dal basso che in qualche modo le persone in maniera assolutamente auto-organizzata non politicizzata cercano in qualche modo di rispondere anche alle esigenze di diritto alla casa. Noi abbiamo occupato un teatro, abbiamo scelto di occupare un teatro proprio in un giorno particolare perché era un giorno in cui a Messina sfilava un corteo regionale di Forza Nuova e abbiamo scelto di ridare questo teatro alla città dopo vent'anni perché pensiamo che proprio a partire dalla cultura sia possibile creare effettivamente delle strutture forti che possano ridare sostanza alle persone appunto attraverso la relazione, attraverso le relazioni, attraverso le comunità in qualche modo si possa effettivamente contagiare un qualcosa che non esiste per cui anche adesso per esempio all'interno della casa del portuale che abbiamo occupato in seguito allo sgombero stiamo facendo tutto un discorso proprio sul diritto alla città a partire dalle relazioni. In particolare appunto parliamo di una città in cui migliaia di persone sono considerate dalla politica soltanto in occasione delle elezioni amministrative per cui ancora si assiste a scambi per cui anche le baracche in qualche modo servono a mantenere un certo tipo di consenso basato sulle clientele naturalmente. Una città senza identità e quindi i cittadini appunto che si percepiscono come terremotati permanenti sono abituati in qualche modo a pensare alla propria città come una città fantasma da cui scappare e nel momento in cui invece si prova a fare un ragionamento di tipo diverso appunto passare dalla città fantasma a una città che ci piace, una città appunto a misura nostra in qualche modo ovviamente i rapporti di forza fanno in modo che quelle comunità in qualche modo diventino anche bersaglio della maggioranza della collettività per cui ci si trova poi di fronte a un certo tipo di repressione molto forte per cui denunce, sanzioni amministrative e tutta una serie di cose che in qualche modo contribuiscono alla disgregazione. Una disgregazione che in realtà è stata pianificata a partire dalla pianificazione che è stata fatta a misura degli speculatori in seguito al terremoto del 1908 e soprattutto negli anni 50 in seguito ai bombardamenti noi vediamo una città che di fatto ha un centro e una periferia completamente scollati, una città in cui i servizi di trasporto urbano sono totalmente fuori servizio in cui non esistono gli autobus, in cui il tram è una miseria, in cui addirittura adesso si sta pensando di privatizzare questi pochi servizi che ci sono. La nostra esperienza come Teatro Pinelli si inserisce in questo contesto in un contesto in cui per vent'anni non ci sono state occupazioni per cui ovviamente questo è tutto molto nuovo c'è molta energia e entusiasmo da parte della cittadinanza rispetto a questa esperienza c'è anche molta ingenuità per cui in qualche modo stiamo cercando di utilizzare questi spazi oltre che per attività prettamente culturale anche per incentivare uno scambio di saperi dal basso fare degli incontri per esempio all'interno del teatro oltre ad aver occupato oltre ad avere in qualche modo aperto una riflessione su tutto il demanio marittimo della città perché l'affoccio al mare della città è gestito dall'autorità portuale di Messina che ne fa un uso assolutamente privatistico per cui parliamo di un'area di 50.000 metri quadri la Fiera appunto che è gestita come se fosse le case private dell'autorità portuale che l'affittano i padiglioni a 3.500 euro a sera per delle convention politiche e nel momento in cui noi abbiamo occupato ci siamo resi conto che queste persone stavano facendo con il comitato portuale di cui fanno parte i privati privanti più potenti della città gli stessi che hanno monopolizzato il transito navi all'interno dello stretto stanno creando un bando per la gestione dell'intera area fieristica di questo demanio rivolto a dei privati per cui ovviamente gli stessi privati privanti interessati costruiscono il bando nel momento in cui abbiamo messo in evidenza questa discussione, questo fatto ovviamente c'è stata la repressione più totale nel momento in cui abbiamo creato un comitato e un progetto costituente per pensare anche a un organismo giuridico che potesse in qualche modo integrare vari soggetti all'interno di questa fiera ovviamente siamo andati in corso a uno sgombero e adesso il teatro si trova completamente murato anche se abbiamo provato a rioccuparlo lo scorso 25 aprile ci siamo trovati di fronte a cemento armato presidio di polizia per cui non siamo riusciti di fatto a sfondare questo muro ma non ci siamo fermati perché dal 14 febbraio al 25 aprile abbiamo fatto delle ZTL, delle zone temporaneamente liberate all'interno di tutti questi spazi dismessi che avevamo mappato ho cominciato a mappare all'interno della città per cui sempre spazi del demanio ma anche spazi come per esempio un parco noi parliamo di una città che non ha parchi cioè la fiera prima che Mussolini ci facesse la fiera era uno chalet al mare, era un parco gigante all'interno di questa città l'unico parco che dovrebbe essere centro di raccolta in caso di terremoto è chiuso noi l'abbiamo occupato e c'è stato risposto dall'INGV l'Istituto Nazionale di Geognostica e Vulcanologia con dei lucchetti, con un presidio di polizia per cui nonostante la presenza di una scritta di una dicitura della protezione civile che appunto questo parco dovrebbe essere aperto alla città del comune e appunto centro di raccolta di fatto questo parco è chiuso per cui noi adesso all'interno della settimana proprio istituita dall'INGV e dalla protezione civile proprio per l'esercitazione in caso di terremoto ovviamente rioccuperemo questo parco e noi il 25 aprile siamo andati a occupare la Casa del Portuale che fa parte di un quadrilatero molto interessante per il comune di Messina allo stato dell'arte parliamo di una città commissariata una città in cui ovviamente tutti i beni proprio perché andiamo incontro ad un default totale sono stati dismessi o sono in dismissione in stato di svendita totale per cui noi siamo all'interno di un quadrilatero dove si trovano Dogana, magazzini generali, mercato ittico ex silos, ex granai totalmente dismessi abbiamo occupato questa Casa del Portuale che è di proprietà della regione e non a caso qualche giorno dopo sono venute delle persone del demanio marittimo regionale a dirci che adesso vorrebbero costruirci i loro uffici per cui una domanda che a mente resterebbe porre un po' alla commissione è proprio come far sì che questi beni comuni che noi mettiamo in evidenza dopo anni di dismissione di insomma di abbandono totale come far sì che appunto non diventino poi patrimonio del pubblico che se ne vuole riaccaparrare ma appunto per farci degli uffici per fare dei progetti che di fatto non vanno incontro alle esigenze della cittadinanza guarda caso pensano a questi progetti si svegliano con questi progetti proprio nel momento in cui noi attenzioniamo questi luoghi la stessa cosa è avvenuta per il teatro il teatro è stato chiuso per vent'anni adesso se ne sono usciti con un progetto da 4 milioni di euro di un palazzo di cristallo in cui il teatro poi di fatto sarebbe soltanto una piccola parte all'interno di questo bene immobile ovviamente come dire c'è anche tutto un discorso rispetto alle lotte territoriali per cui il ponte sullo stretto se da una parte è stato un po' un movimento d'opinione se da una parte ha monopolizzato la riflessione su tutte le lotte rispetto al diritto alla città dall'altra parte è stato anche in qualche modo un incubatore di riflessioni ulteriori per esempio rispetto al discorso dell'investimento di tutte le risorse pubbliche del passaggio dell'investimento delle risorse pubbliche dalle grandi opere sono un po' stressata come dire alla difesa del territorio appunto la questione di Giampilieri le frane il distesto idrogeologico sono dei problemi contingenti che ovviamente sono legati anche al diritto alla città al diritto alla casa per cui appunto noi la domenica facciamo queste assemblee cittadine in cui si cerca di passare da una crisi di identità a un diritto alla città in città è nata una lista di un candidato di movimento che appartiene alla rete Enoponte che ha proposto un assessorato all'autogestione dei beni comuni stiamo facendo una mappatura di questi beni dismessi ma attraverso il corpo mettendoci attraverso queste ZTL perché noi riteniamo che non basti fare un elenco vuoto di questi beni l'hanno già fatto l'hanno fatto i grillini l'hanno fatto insomma in passato tanti movimenti adesso è il momento secondo noi veramente di entrare entrare anche col flex anche con pratiche a cui di solito i cittadini come dire non si espongono però perché non crediamo più che basti rivolgersi rivolgere degli appelli vani alle istituzioni e poi appunto il discorso rispetto alle grandi navi rispetto un tipo di turismo che ovviamente sono d'accordo con Tommaso il compagnolo che mi ha preceduto sono assolutamente depauperanti delle risorse e delle potenzialità delle nostre delle nostre città per cui ripensare a un tipo di economia da estrattiva piuttosto a un'economia in qualche modo che possa tenere conto di un sistema autopoietico che possa mettere a valore quello che noi siamo quello che le nostre comunità in qualche modo stanno producendo e si stanno rendendo conto di produrre e poi appunto l'ultimo cenno vorrei farlo rispetto al consumo di suolo cioè c'è una risposta volendo che si potrebbe dare già da subito è un po' è successo a Messina rispetto al discorso dei Rom nel momento in cui i Rom sono stati sgomberati gli stessi compagni con cui oggi occupo il teatro hanno fatto una lotta fortissima che oggi ha prodotto l'autocostruzione da parte delle comunità Rom insieme ad alcuni cittadini di interi quartieri cioè adesso la comunità Rom si è autocostruita le proprie case ed è in grado di trasmettere queste competenze noi per esempio li abbiamo anche contattati per la ricostruzione dal basso del teatro concludo dicendo che all'interno di questo nuovo spazio che abbiamo occupato la casa del portuale vorremmo ospitare la costituente ma vorremmo anche far sì che lì ci fosse un'università della terra un'università dell'attivismo dal basso un posto dove effettivamente si possa parlare di diritto vivo si possa rielaborare e in qualche modo trasmettere anche a livello popolare i nostri contenuti grazie grazie